Un mondo da valorizzare, quello dei restauratori d'arte, delle marche. Ce ne sono 150 in tutta la regione, 16 in provincia di Fermo. Si tratta di un comparto strategico per l'economia del territorio, un settore da promuovere. Per questo motivo in Camera di Commercio a Fermo si è fatto il punto sullo stato dell'arte, tanto per rimanere in tema del comparto. Erano presenti tutti i restauratori d'arte del Fermano. Presidente, abbiamo visto un eccellente riscontro per questa iniziativa da parte dei restauratori di Fermo che ci sono tutti oggi in questa giornata. Lo scopo dell'iniziativa? Intanto a me piace evidenziare questo rapporto università, mondo dell'economia, Camera di Commercio. E questo settore è particolarmente interessante. Evidenzia anche un'attenzione che stiamo mettendo un po' in tutte quelle che sono le realtà e le potenzialità del nostro territorio. Noi ripetiamo molto spesso che le opere d'arte, la nostra cultura, sono elementi fondamentali in questo momento storico. Ed è un settore che abbiamo sempre sfruttato nel senso buono del termine poco. Oggi prestiamo grande attenzione a questo. Allora, in un rapporto sinergico tra mondo universitario e mondo del lavoro e studenti, si stanno facendo dei corsi per restauratori e vari settori sempre nel mondo dell'arte. È un fatto estremamente positivo. Forse in passato abbiamo trascurato troppo, pensando molto di più a quella economia più visibile. Abbiamo trascurato il mondo dell'arte che veramente arricchisce e abbellisce l'uomo, ma c'è anche un aspetto economico fondamentale perché sappiamo che il turismo in gran parte è attratto proprio dalle opere d'arte, dal territorio, da quelle che sono le bellezze naturali. Quindi vedo molto positivamente questa iniziativa. Lo stesso Palazzo Azzolino, sede dell'ente camerale Fermano, è un bene che è stato sapientemente restaurato, conservato, tanto che le delegazioni straniere in visita alla Camera di Commercio restano ammaliate dalla bellezza del palazzo. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza figure professionali specializzate nel restauro di beni culturali. Come far crescere dunque il comparto utilissimo al territorio perché di beni da restaurare e valorizzare ce ne sono tantissimi? La formazione per i restauratori dal 2010 è diventata una formazione con una laurea dopo un percorso di cinque anni e che porta un titolo di laurea ma anche all'abilitazione professionale. Quindi è stato un vero cambiamento nell'ambito della formazione di questo tipo di professione. I giovani che si iscrivono a questo corso di laurea scelgono dal primo anno su sei percorsi abilitanti. Uno è quello delle opere su tela e opere linee, un altro è quello sul lapideo, poi ci sono i materiali ceramici, la carta e alla fine il percorso di strumenti musicali. E fanno cinque anni di lavoro teorico, sia di punto di vista storico-artistico che tecnico-scientifico e un terzo della loro attività è nei laboratori di restauro. Quindi un'attività pratico-laboratoriale molto intensa su opere d'arte definite beni culturali, cioè quelle vincolate. L'incontro in Camera di Commercio Affermo è stato molto operativo. I restauratori sono imprenditori perché operano in proprio. L'imprenditore calzaturiero Diego della Valle nel finanziare il restauro del Colosseo ha dato lavoro a tantissimi restauratori imprenditori ad esempio. Partire da questo presupposto per comprendere l'importanza di mettere in rete professionisti, istituzioni, università e imprenditori è fondamentale. Abbiamo realizzato l'anno scorso una prima indagine conoscitiva sulle imprese di restauro della provincia di Pesaro e Urbino e intendiamo allargare l'indagine alle imprese marchigiane. Oggi sono affermo in Camera di Commercio per incontrare i restauratori delle restanti province e anche distribuire un questionario. Lo scopo dell'indagine è conoscere il profilo del restauratore, la sua formazione, il genere e anche le caratteristiche dell'impresa, gli addetti, il fatturato, i mercati. Quindi lo scopo dell'indagine è di riuscire a conoscere questo settore in quanto al momento non esistono indagini di questo tipo e da qui poi partire per iniziare a sviluppare delle azioni, delle strategie in collaborazione anche con Camera di Commercio e altre istituzioni proprio perché il settore del restauro è un settore strategico, un settore fondamentale per conservare, per valorizzare il nostro patrimonio culturale. In Italia di imprese di conservazione e restauro di opere d'arte ce ne sono circa 3.000. 16 sono affermo in forte calo negli ultimi anni, segno evidente della crisi del settore. Il fatturato è inferiore in genere per ciascun professionista ai 10.000 euro annui e negli ultimi tre anni c'è stata addirittura una riduzione del fatturato e della redditività. Presidente, quello di oggi in Camera di Commercio di Fermo è stato un incontro molto concreto perché vede lavorare in rete l'università, le istituzioni, gli imprenditori, i professionisti. Ecco, da questo gap e da questa crisi del settore si può uscire se sì? Come? Beh, in fondo nella tua domanda è implicita, cioè mettere insieme tutte queste realtà che possono far sì che quelle che sono ricchezze naturali nostre possono essere valorizzate e messe a fattore comune mi pare che sia un fatto importante. E d'altra parte, avendo del personale specializzato, artigiani veramente completi, capaci di rispondere alle attese di oggi, il vecchio mestiere, aggiornato anche alle tecnologie, oggi sappiamo che ci sono molte risorse, il digitale è entrato anche nel mondo del restauro, nel come presentare le nostre opere d'arte, ecco, allora dobbiamo non doverci vergognare più di non sapere che a fermo abbiamo un Rubens, non possiamo più concederci di avere tante opere d'arte, il Crivelli o palazzi storici come quello da cui stiamo parlando, che sono una meraviglia. Io non c'è giorno che arrivo alla Camera di Commercio e non trovo ospiti e per la maggior parte non parlano neanche italiano. Ecco, allora noi dobbiamo fare in modo di conoscere bene queste bellezze, di avere gente preparata che le sanno raccontare e dobbiamo fare in modo di raccontarle al mondo, ma prima ne dobbiamo conoscere noi del territorio. Per saperle raccontare bisogna amarle noi, gustarle noi e ci fa bene all'anima, ma serve anche per attrarre il turismo, serve anche per migliorare la nostra economia e trovare occupazione per i giovani. Grazie a tutti.